Noi abbiamo finanziato e patrocinato questo evento appunto perché per tempo avevamo intuito senza nessuna competenza tecnica che però man mano che aumentava, anche con il Covid che è stato un acceleratore su questo, la capacità della popolazione di usare sempre più la rete, i sistemi digitali, le pubbliche amministrazioni erano costrette o volevano fare sforzi per rendersi sempre più raggiungibili e per Smart automaticamente doveva aumentare il bisogno di proteggere questa nuova rete. Come se noi immaginassimo in un altro periodo e per gli altri eventi di organizzare la finale di Coppa del Mondo di calcio e di non prevedere steward all'ingresso, all'uscita, forze dell'ordine che ci girano intorno. E purtroppo quello che è avvenuto all'Aquila non è affatto imprevisto, io che non vivo da un'altra parte e ripeto non avendo questo tipo di competenze avevo più volte avvisato della debolezza e vetustà dei sistemi, delle strutture e della difficoltà a gestire anche il poco che si aveva con il personale qualificato dedicato a quella specifica materia. La Regione Abuzzo non ha nessuna competenza legislativa, non siamo neanche in una fase di concorrenza con la sicurezza nazionale che è appunto tema di esclusiva attività del Governo e del Parlamento. Abbiamo competenze sulla protezione civile e ci siamo dotati dell'Agenzia di protezione civile, cosa che non avevamo, questo però non ci malleva dalla responsabilità di poter assegnare alla protezione civile non il compito di sviluppare le competenze e di decidere quali sono le infrastrutture necessarie, ma quello di poter derogare ai tempi che sono stabiliti alle norme per affrontare questo problema, voglio dire questo, cioè noi siamo in guerra, non è che questo è un fatto episodico, oddio è capitato, tra l'altro dolorosissimo, personalmente non ho neanche idea di come andrà a finire tutta questa vicenda e da quando si ripartirà con la piena operatività di tutto il sistema. Altre strutture regionali hanno resistito un po' meglio, cioè il Consiglio regionale sarà stato attaccato qualche migliaio di volte, ci sono stati riservizi ma eravamo pronti perché eravamo più organizzati, perché ci avevamo pensato per tempo ed eravamo pronti con le strutture di supporto che intervenivano durante la fase dell'attacco. Altre ASL erano in una condizione leggermente migliore da quella dell'Aquila, hanno subito delle difficoltà ma sono state diciamo pronte a reagire, però dobbiamo comprendere che questa è una guerra, cioè che continuerà, che tra l'altro siamo già stati avvisati che continueranno e oggi sarà, prima o poi bucheranno i nostri sistemi difensivi se noi non li rafforziamo, qualcuno lo stava dicendo proprio prima che io inutilmente lo interrompessi. Quindi a mio avviso il governo italiano e il sistema delle regioni, cioè la conferenza Stato-Regione, si devono dotare di una legislazione specifica e d'urgenza che deroghi a tutti i tempi normali delle pubbliche amministrazioni e che crei la possibilità di utilizzare le risorse che più ci sono, che già ci sono, senza vincoli di bilancio, anche perché poi i danni che producono sono duemila volte superiori al costo che invece vorremmo generale per proteggerci. E voglio aggiungere che questo è un dato, tra virgolette, appunto di guerra, quindi di difesa della vita dei nostri cittadini, perché quando blocchiamo le sale operatorie o blocchiamo delle visite specialistiche o blocchiamo gli interventi di somma urgenza che poi magari sono stati mallevati per la capacità tipica di un italiano di dare il meglio di sé nel momento di massima disperazione, noi abbiamo messo a repentaglio la vita di un nostro concittadino, non il fatto che per qualche minuto non ha potuto consultare la propria mail o internet o l'onbanking o non gli funzionava, cioè noi abbiamo messo a repentaglio la vita di un cittadino abruzzese per non aver capito, benché da tempo avvisati, parlo di dipendenti pubblici, che noi eravamo altamente aggredibili e in quota parte battibili. E così è stato, ma lo si sapeva, cioè non è stato un fatto, cioè che la rete della AS dell'Aquila fosse a rischio collasso era un fatto noto, procedure, gare, bandi, ricossaltare, non è così, noi siamo in guerra e continuerà, veniamo aggrediti in azioni ostili estere, non lo so se sono loro o se ci sono persone che fanno questa propria attività criminale, d'altronde cambia tutto nel mondo e cambia anche l'interesse delle attività criminali, ma noi dobbiamo reagire con una legislazione d'urgenza sul modello protezione civile o sul modello Covid. si derogano a tutti i tempi di pubblicazione, si scelgono su un albo specifico i migliori professionisti e le migliori aziende, quelle che possono vantare il know-how necessario e ci si difende da quella che è una guerra e che continuerà, perché il danno altrimenti sarà migliaia di volte superiori e molte vite saranno esposte. Questo è quello che è successo in Abruzzo, né più e né meno. Grazie Presidente, il suo intervento riporta, e stimolo su questa discussione, un tema che è già emerso fin dall'inizio della mattinata, cioè il rapporto fra burocrazia, complessità normativa, efficienza e tempi di reazione, perché quello che lei ha disegnato è una specie di libro dei sogni che sarebbe molto bello poter avere concretamente, perché è quello che serve. Se ti interrompo perché tengo al tema, ma perché un libro dei sogni? Cioè noi nel momento Covid, in cui le nostre strutture erano abbattute a terra, in questa città abbiamo fatto quattro piani di ospedale in 60 giorni. Io non capisco, da questa terra, ma anche solo se guardassimo questa terra, ma ti dico nel panorama nazionale, noi abbiamo il fior fior di professionisti, di aziende che offrono la propria esperienza, il proprio lavoro a chiunque in Italia e nel mondo, non comprendo perché se siamo in guerra non ci vogliamo difendere, ma in guerra ci sono leggi speciali, non sono leggi ordinarie. Il punto è esattamente questo, purtroppo sia il legislatore comunitario sia quello italiano stanno andando da un'altra parte.